uguale macelleria sociale. Carrefour, come tutti i padroni, non sopporta chi non è flessibile, chi non si adegua alle loro novità, chi pretende che i propri diritti siano diritti di tutti, chi non piega la testa davanti alla loro arroganza. Carrefour, come gli altri padroni della grande distribuzione, trasferisce sempre e da sempre i lavoratori storici, senza ovviamente il loro benestare, per disgregare il nucleo storico delle filiali, sostituendoli con i lavoratori interinali, con i lavoratori in stage, che guadagnano metà di quanto guadagniamo noi per fare lo stesso medesimo lavoro, né più né meno, e lì sostituisce con i lavoratori, addirittura facendogli fare sia gli stage che gli interinali lavori superiori di uno o di due livelli, sostituendo i vecchi capi reparto responsabili col terzo e secondo livello, con i lavoratori col quinto e col quarto livello, come ha fatto due o tre anni fa con i manager, adesso fa la stessa cosa, ricalca alla lettera sempre e comunque il comportamento delle altre aziende dalla grande distribuzione organizzata, nessuno escluso. Noi per far fronte a tutto questo dobbiamo smettere di pensare in modo individualista e individuale e dobbiamo lottare tutti insieme rifiutandoci di abbassare la testa davanti all'arroganza padronale, rifiutandoci di abbassare la testa e dobbiamo combattere, metterci in testa di combattere la guerra con le regole dei padroni e con le regole della lotta di classe, ma combattiamo uniti contro i padroni, che questa è l'essenza principale del principio. Applichiamo l'articolo 36 della Costituzione italiana e lottiamo per un lavoro e per un salario dignitoso, che di fatto è l'assunto principale dell'articolo 36 della Costituzione italiana. Questi principi dobbiamo portarli in piazza nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, soprattutto il 25 aprile e il primo di maggio, dove saremo in piazza per ricordare che la lotta partigiana contro il regime nazifascista e contro l'arroganza padronale e dei leccaculi del regime nazifascista è iniziata alla metà degli anni del 1943 con i moti e con gli scioperi all'interno delle grandi fabbriche tra il 5 e il 15 di marzo del 1943. È stata portata avanti nel dopoguerra con le lotte dei primi anni 60, degli anni 70, quando è stata la lotta proletaria all'interno della fabbrica, insieme ai disoccupati, agli studenti, ha portato tutti i diritti come quello della scuola pubblica, della sanità pubblica, ha portato il diritto alla legge sulla maternità, mentre prima le donne dovevano lavorare all'interno delle fabbriche fino agli ultimi giorni prima del parto, ha portato la legge sul divorzio, una legge civile che esiste in quasi tutti i paesi europei, ha portato la legge che è il regolamento all'introduzione volontaria di gravidanza, che in Unione Sovietica addirittura era diventata la legge, era stata una conquista del 1917-1918. Tutto questo che dopo la distruzione del gruppo di lavoratori, dopo la distruzione della lotta proletaria, dopo che i partiti revisionisti e i sindacati revisionisti alla fine degli anni 70 hanno cominciato a disgregare il movimento operaio, tutti questi diritti hanno cominciato ad essere elusi e hanno portato così il padrone a riprendersi con gli interessi tutto quello che è stato portato avanti nei decenni precedenti agli anni 70. Per cui l'unico modo per riprenderci tutto quello che ci hanno tolto, per riprenderci le fabbriche, visto che le fabbriche sono dei lavoratori e non sono dei padroni, visto che il plus valore è il lavoro, ce lo mettono i lavoratori. Per portarci avanti tutto questo bisogna scendere in piazza e collettivizzare le lotte tutte insieme e smettendo di accontentarci delle briciole che ci vogliono dare i padroni. Per cui aspettiamo tutti quanti in piazza nelle prossime manifestazioni e soprattutto 25 aprile e 1 maggio nelle quali ricordiamo.